...delle forme milionari e vedete cosa sono. Ovviamente noi dobbiamo sempre partire da, non uno, ma stavolta da due k spazi vettoriali. Ok, una volta che abbiamo due spazi vettoriali, quindi invece che andare a prendere una cosa che da v porta in doppia v e che sia lineare, o a massimo che sia bionivoca, noi vogliamo invece prendere un elemento di v, combinarlo con un elemento di doppia v e farlo entrare nel campo k. Quindi una forma fi definita da v per doppia v, adesso vediamo cosa si intende, è bilineare se succedono due cose. Per qualunque elemento v1 e v2 dello spazio iniziale, dato un elemento di doppia v e due scalari nel campo, sia che come tu calcoli fi in una combinazione lineare, lambda 1 v1 più lambda 2 v2 a sinistra, la puoi scrivere come lambda 1, quindi per linealità a sinistra puoi tirare fuori il coefficiente e calcolarlo soltanto in v1 e in v, più linealità sempre tirare fuori il coefficiente e calcolarla in v2 e w. idem, deve verificarsi a destra, quindi w1 e w2 appartenenti a w grande, v appartenenti a v, e due scalari sempre in un campo, fi di v e lambda 1 omega 1 più lambda 2 omega 2, la puoi riscrivere come lambda 1 volte fi di v e omega 1 più lambda 2 volte fi di omega 2. Ok, quindi invece che prendere un vettore e calcolarci fi, abbiamo bisogno di due vettori a due spazi vettoriali, che non è detto che devono avere per forza la stessa dimensione, fare una combinazione lineare e ottenere un nuovo elemento che appartiene a un campo, perché questo qua è un campo, questo qua è un campo, il prodotto per scalare è un campo, li metti insieme per somma è sempre in un campo. Ok, adesso possiamo definire due applicazioni, per esempio, fi di v, sono stronze perché si invertono, che parte da w, va in un campo, e quando tu la calcoli su un qualunque elemento è w, la definiamo noi così, vale v per w, per qualsiasi v appartenente a v grande, e viceversa fi di w definita da v a k, tale che fi di w è calcolato in v, uguale, la definiamo noi così, è sempre v per k, per qualunque v per qualunque w appartenente in v grande e in w grande. E noi sappiamo che sono lineare a sinistra, che sono lineare a destra, scusatemi, scusatemi, questa qua è lineare, e questa qua è lineare, quindi in realtà noi possiamo vedere come possiamo costruirci una nuova forma bilineare, che sarà un po' il prototipo generale, poi lo possiamo espandere, abbiamo bisogno di una matrice, n per m, è diventata in un campo, e una fi di a è di file da k alla n per k alla m, ha valori nel campo, e quando tu calcoli fi di a in x, y, questa qua è data da trasposta del vettore x, per la matrice a per il vettore y, e vi faccio notare che, allora, k alla n, quindi questo qua è un vettore colonna, però trasposto, quindi è un vettore riga, quindi una riga per n, a è n per n, n per n, e y nel vettore colonna partendo dal k, n per m, per m, e y nel vettore colonna, quindi m colonne, una riga, e questo qua da un elemento in un campo, che lo può vedere come una matrice uno per uno, basta vedere gli estremi, e qua i prodotti si possono fare, perché qua c'è n, qua c'è n, qua c'è m, qua c'è m, sono uguali, ok, e questa qua è molto bella, perché è bilineare, e c'è la dimostrazione, ma va bene, e non solo, ma noi possiamo anche generalizzare PdA, invece che partire da k alla n a k alla m, partiamo da, non da un campo, ma da uno spazio vettoriale, per un altro, a valore in un campo, quindi una possibile applicazione bilineare, abbiamo bisogno di esempio di una matrice A, n per m, è entrata nel campo, e definiamo PdA, rispetto alle basi Bv, e Bv doppio, e in questo modo, quando tu calcoli PdA, Bv, Bv doppio, su due vettori, qualsiasi, per qualunque V appartenente a V grande, per qualunque V appartenente a V grande, questa cosa qua, è PdA calcolata in PdV, e V doppio di V doppio, adesso cosa sono queste cose qua che ho scritto, noi sappiamo che, se la dimensione di V lui è n, e la dimensione di lui è uguale a m, questi qua sono isomorfi a k alla n e k alla m, quindi esistono dei isomorfismi che li collegano, quindi delle applicazioni lineari e bionivoche che le unisco, per esempio le matrici 2x2 sono isomorfe a r4, perché hai bisogno di 4 coefficienti per descrivere una matrice, i polinomi di grado minore uguale a 2 sono isomorfi a r al cubo, perché hai bisogno di 3 coefficienti per descriverli, ax alla seconda più bx più c. Questi qua quindi sono gli isomorfismi che collegano v a k alla n e w a k alla m, e questa cosa qua è bella perché, questa qua serve, scusatemi, FdA, perché FdA l'abbiamo definita prima, quindi è la trasposta di FdV, e per la matrice A, per invece l'alta non trasposta. E di nuovo questo qua appartiene a un campo. E la cosa bella è che è bilineare a sua volta. E comunque credo che ci sia una proposizione, che se la becca poi la dimostro, che dice che FdA è bilineare, se la puoi scrivere in questo modo qua, dove FdV e FdW sono bilineare a sua volta. e notiamo che quando noi usiamo le basi canoniche, questa cosa qua che era complicata, cioè v, vw, le basi dv, le basi vw, se noi le usiamo come FdA rispetto alle basi canoniche, metto una n e una m per indicare che sono spazi diversi, dimensioni diversa, questa qua è proprio FdA, quindi sarebbe trasposta di x per la matrice A per y, senza fare niente. Ok. Quindi abbiamo un insieme, e tutte le funzioni bilineari, e lo chiamiamo bil, di cosa? Dello spazio di partenza, che è dato da due spazi, quindi da v e da w a valore in un campo, e la cosa bella è che se noi andiamo a definire due operazioni, che sono la somma tra applicazioni bilineari, e il prodotto per scalare, e vediamo che sono operazioni chiuse, quindi bil, v, w, è un k spazio vettoriale. ma, ok, alcune preposizioni sono inutili, però ve lo scrivo, quando abbiamo definito FdB, w, w, questo qua lo puoi vedere anche come isomorfismo, di k spazio vettoriale. Ci serve, praticamente, per una dimostrazione successiva, ma comunque è una cosa da sapere. Adesso, immaginiamo di avere, FI, anzi no, facciamo più facile, alfa e beta, e due applicazioni lineari, quindi bilineari, la doppia, da v, a v doppio, quando è che sono uguali? Ovviamente qua, esiste una base bv, ed esiste una base bv doppio, che hanno una cardinalità diversa, perché possono avere dimensioni diverse, quindi questa qua magari, ha n elementi, questa qua magari ne ha m, allora, alfa è uguale a beta, solo se tu, quando calcoli, alfa, in, V, e, ok, si capisce, wj, corrisponde a beta calcolata, in, v i e w j, per, qualunque i, che va da 1 a n, e per qualunque j, che va da 1 a m, ovviamente sto indicando, con v i vettori alla base bv, con w i vettori alla base bv, e, questa cosa qua, è importante, e non è neanche troppo difficile, a dimostrare, ok, adesso, possiamo, fare un piccolo collegamento, con le matrici, rappresentatrici, di un'applicazione lineare, che erano, i coefficienti a dare, alla base b', per ottenere f calcolata, nella base bv, mentre invece, le matrici rappresentatrici, qua, non abbiamo più bv'', ma abbiamo la base dv, e la base dv, ok, e, la matrici rappresentatrice, di un, di un fi, appartenente, applicazioni bilineari, da v, a w, sono date, dalla trasposta, di a i, per a, dv, doppio, ah, scusate, 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 questa arriva da una seconda definizione, ok, sono date, in modo un pochettino più semplice, da fi, calcolata, nella base, voilà, quindi, per esempio, abbiamo, un'applicazione lineare, che prende, due vettori, in input, primo è il vettore x, il secondo è il vettore y, e partiamo, con una cosa definita da r3, a r3, quindi, il vettore x e il vettore y, sono elementi di r3, di r3, cosa significa? Che questo qua è un, x1, x2, x3, y1, y2, e y3, hanno tre coordinate ciascuno, se noi, diamo una legge, che per esempio, è data da, x1, y1, più, due volte, x1, y2, più, tre volte, x1, y3, più, x2, y2, meno, x2, y3, più, quattro volte, x3, y1, 1, se noi, intanto, si può verificare che questa forma qua, è bilineare, piccolo suggerimento, non ci sono termini noti, e sono tutti coefficienti di grado 2, e usiamo come ovviamente base canonica di r3, usiamo una base canonica, e si può andare a calcolare la matrice rappresentatrice di phi, rispetto alle due basi canoniche, ma questo significa fare un pochettino più di calcoli, in particolare bisogna farne 3 per 3, 9, perché bisogna calcolarsi phi di vi, quindi bisogna calcolarsi phi di 1, e si inizia a male, e 1 e 1, questo ci darà la prima entrata della matrice, e se voi fate i calcoli otteniamo 1, poi il secondo, phi di e 1 e 2, questo ci darà la entrata, numero, prima riga, seconda colonna, e questo, lo calcoliamo, e faceva 2, poi bisogna calcolare phi di e 1 e 3, e questo ci darà, sulla prima riga, il terzo elemento, e si può ricalcavare 3, ok, facciamo i nuovi calcoli, quindi, abbiamo detto, e 1 e 2, che vale 1, scusatemi, e 1 e 1, e 1 e 2, che vale 2, e 1 e 3, che vale 3, adesso fidatevi, calcoliamo su e 2 e 1, la seconda riga, questo vale 0, e 2 e 2, questa vale 1, poi abbiamo e 2 e 3, questa vale meno 1, e poi terza riga, primo elemento, che vale 4, scusatemi terza colonna, se intendo ovviamente, no, 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 giusto, giusto, ok, queste cose qua, vanno composte subito, che poi ci si dimentica, 1, 2, 3, 0, 1, meno 1, lo abbiamo, no, ho detto giusto, e la riga, 1, 2, 3, 0, 1, meno 1, abbiamo un 4, quando facciamo e 3 e 2, otteniamo uguale a 3 e 3, ed è 0, e voilà, questa è la matrice rappresentatrice di phi, rispetto alle basi canoniche di R3 in arrivo in partenza, ok, avremo potuto calcolarla con delle basi diverse, ottenendo qualcosa di più carino e più semplice, non stiamo per riaffrontare il problema della decanalizzazione, ma pensiamo invece che, quindi abbiamo phi, che è definita da v per w, che va in un campo, ok, abbiamo due basi di v, che sono bv, e bv'', e le due basi di w, bw, e bw'', cosa succede se io calco la matrice e rappresentatrice? prima con queste due, una e due, e poi con queste due, usceranno matrici diverse, ma sono collegate, in modo simile, in pratica, al cambiamento di base, che abbiamo visto anche con le modificazioni lineari, infatti, a dv, per b dv, dv sempre di phi, è data, questa è bellissima, invece che avere l'inversa, qua c'è la trasposta, ho una matrice di passaggio, che lega le coordinate di vv, all'altro modo per descrivere sempre lo spazio v, per la mia matrice, che voglio descrivere con le nuove coordinate, quindi bv' e bw'', rispetto alla cosa, per un'altra matrice, che invece è data da bw' e bw'. ok, un esempio estremamente pratico, calcoliamoci, la matrice rappresentatrice, sempre delle applicazioni lineari, che ho descritto prima, rispetto a questa base, quindi cerchiamo a, a bb', dove b è la base formata dai vettori 1, 1, 0, 1, 0, 1 e 0, 1, 1 ok, quindi avremmo dovuto calcolare phi di il primo vettore e il primo vettore, il primo vettore con il secondo, il primo con il terzo e idem per v2, v2, v2 e poi v3, v3, v3 e fidatevi, calchio in la mano, la matrice rappresentatrice di adb, sempre di phi, è data da 4, 7, 5 3, 8, 3 e 5, 5, 0 ok, come sono collegate? Abbiamo a b b e a e e sembra un deficiente, però invece sì allora intanto troviamoci le matrici di passaggio ma la cosa più facile è sempre passare dalla matrice PBE che sono le coordinate di B rispetto a E ma E è la base canonica quindi questa significa mettere v1 v2 e v3 in colonna e a sto punto ve la scrivo un attimo perché abbiamo un po' una peculiarità che di solito non succede ok uffa quando noi dovremmo fare P e B e la simmetrica vedete che è già simmetrica quindi la matrice non cambia quindi finalmente noi possiamo vedere che la nostra matrice BB quindi sarebbe PBE MEE P e B P e B però abbiamo visto che è simmetrica quindi di nuovo PBE è una botta strana perché vediamo che 1 1 0 1 0 1 0 1 1 questa moltiplicata per 1 2 3 0 1 meno 1 4 0 0 e poi in nuovo la trasposta ma che è sempre 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 ci dà ci dà esattamente MBB che era 4 3 5 7 8 5 e 5 3 0 ok poi adesso apportiamo un nuovo capitolo molto bello immaginate di avere un un fi che è definito da scusatemi da w a valore in un campo ma per una volta v è uguale a w quindi è l'esempio che abbiamo appena trattato noi perché partivamo da r3 r3 queste qua se è una forma bilineare che di solito sarebbe bil di w doppia w in questa cosa qua sono uguali quindi sarebbe di bil di w e noi per semplicità lo chiameremo bil di w che a sua volta è un spazio vettoriale ma vediamo che poi in successivo sarà un sottospazio vettoriale allora possiamo definire un un prodotto scalare quindi è una è una forma bilineare quindi fi appartiene a bil di w ossia è definita da v per v a valore in k ed è detto prodotto scalare 6 e sto dando 6 per definizione quando tu calcoli fi in su un vettore di w e un altro questa è w e v si può invertire l'ordine e non cambi ovviamente non si chiamano prodotti scalari per simpatia però per esempio appunto il nostro prodotto scalare classico quello che prende x1 x2 x3 e le moltiplica con y va bene y1 y2 e y3 questa qua è una forma bilineare ed è simmetrico quindi è un prodotto scalare ormai abbiamo capito che non esistono tanti cioè non esistono unici prodotti scalari cioè esistono infiniti che tra poco vedremo che tutti dipendono dai coefficienti della matrice questo qua che si chiama prodotto scalare standard o euclideo su k alla n questo qua siamo in r3 è una forma bilineare simmetrica ok e la cosa bella che phi è bilineare simmetrica quindi è un po' alto scalare solo se la sua matrice rappresentatrice mentre rispetto alla sua base è simmetrica quindi una forma bilineare simmetrica o rotoscalare e lo è solo se la sua matrice rappresentatrice è simmetrica ma bisogna sempre usare la stessa base perché comunque non avrebbe senso usare due basi diverse per lo stesso spazio quindi questa qua che matrice rappresentatrice ha e è bellissimo perché la matrice che rappresenta ABB del prodotto scalare standard prodotto scalare standard è una matrice dove le cui intentate sono il delta di Kronecker quindi è bellissimo perché ha l'identità infatti prodotto scalare standard il delta con Kr delta ij è definito così vale 0 o 1 0 quando i è diverso da j mentre invece vale 1 quando sono uguali e quindi una matrice fatta da delta ij significa che è una matrice che ha 1 quando ij sono uguali quindi 1 1 1 1 1 1 e 0 in qualsiasi altro caso ma questa è l'identità che è simmetrica quindi il prodotto scalare è effettivamente uno dei prodotti scalari come forne bilineare simmetriche ok l'insieme l'insieme delle phi tali che phi è bilineare e simmetrica lo possiamo chiamare per definizione sdv forme bilineare simmetriche e v e noi sappiamo che è contenuto in bil di v ma non solo è un suo sottospazio quindi è un sottospazio bilineare delle forme bilineari da v v che sono sottospazio delle forme bilineari da v v sotto spazio e non solo l'insieme delle matrici simmetriche matrici simmetriche in n ovviamente sappiamo che è contenuto uguale nelle matrici n per n ma è a sua volta un sottospazio ok adesso l'ultima cosettina una volta che abbiamo definito un prodotto scalare quindi se fi appartiene a s di v possiamo definire un vettore ortogonale rispetto a un altro quindi v e w appartiene a v grande v è ortogonale a w solo se un prodotto scalare è uguale a 0 ovviamente quindi fi fi di v w uguale a 0 questo qua si chiama ortogonalità rispetto a un certo potto scalare fi quando non è specificato si intende sempre il prodotto scalare o criterio standard ma non solo quando noi abbiamo un un insieme magari lo chiamo s un insieme i ok contenuto in v possiamo mettere l'ortogonale di i rispetto a un certo potto scalare generico l'insieme dei vettori tale che quando tu ci calcoli fi di v e w questa qua faccia 0 per qualunque w in i e è anche detto l'insieme fi ortogonale di s ma non solo l'insieme è anche un sottospazio di v se ovviamente i è contro t in v ok ora vediamo un attimo due anzi un paio di proposizioni che ci leggono le regole sui fi ortogonali quindi abbiamo sempre il fi è la nostra forma bilineare simmetrica prodotto scalare e abbiamo due insieme st contenuto in v allora se noi abbiamo un s contenuto in v quando noi andiamo a calcolare i fi ortogonali invece succede il contrario che l'ortogonale rispetto a fi di t è contenuto uguale nell'ortogonale rispetto a fi di s se invece noi andiamo a chiamare per esempio un w con s è il sottospazio di v grazie al cazzo generato da s allora il ortogonale rispetto a fi di s è uguale all'ortogonale rispetto a a fi di w di s notazione infame non solo se poi ci chiediamo qual è l'ortogonale di questo elemento di questo spazio beh qual è l'unico vettore che è ortogonale a ogni vettore v picco di v o zero cioè v per zero uguale a zero per qualunque v quindi qualunque v è definito in v grande e poi un'altra cosa molto 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 bella è data e cosa succede se io voglio calcolare l'ortogonale rispetto a un'unione di spazi ma questo è esattamente l'intersezione dei segni di ortogonale questa cosa qua è abbastanza grafica da vedere infatti fingiamo ad avere uno spazio s e uno spazio v che si intersegano questo è s e v ok andiamo prima a calcolare l'unione che è un qualcosa fatto di questo s unito si lo chiamiamo t scusatemi qual è l'ortogonale di questo graficamente lo possiamo vedere cosa sono tutti vettori ortogonali all'unione tutti loro mentre se invece andiamo a calcolare per esempio singolarmente lui è s i suoi ortogonali sono dati da questo ok e quando noi andiamo a considerare invece t lui è t quindi una parte di sicuro sarà ortogonale ma l'ortogonale di t invece è data da lui tutti i vettori esterni da t ok e se guardiamo quando noi facciamo l'intersezione l'intersezione di s t è proprio lui se avrei dovuto magari facciamo un blu scusate ok e adesso vi chiedo qual è l'ortogonale di questo beh mi sembra naturale che sia tutto e sarò anche ritrombonito scordi sono le zone in cui ci sono entrambi quindi qua ci sono entrambi qua ci sono entrambi qua ci sono entrambi la fine ricalca e vi sembra qualcosa di familiare abbiamo appena visto che quindi s si chiama così ok direi che è abbastanza tardino e posso andare a maggiore